Torniamo oggi con una settimana di ritardo a parlare della setta dei libri con la lettura di marzo 2023. Iniziamo! Amici, bentornati sul canale, bentornati su Riaccenso, la videorubrica di libri, fumetti, manga, film e telefilm. Nella puntata di oggi, come dicevo, torniamo a parlare della setta dei libri e lo facciamo con la lettura di marzo del 2023. Lo facciamo però con una settimana di ritardo perché il primo venerdì del mese di aprile è capitato di venerdì santo e quindi siccome voi lo sapete sono credente, non pubblico mai di venerdì santo perché per noi è un giorno di silenzio e di preghiera per cui non voglio mai mettere qualcosa che possa distrarre da questo scopo, anche se so che non tutti siamo credenti però visto che il video lo devo girare e montare io e poi me la devo vedere io con tutto il resto, decido di non pubblicare. Chiusa questa parentesi che non frega niente a nessuno, oggi parliamo della vita di chi resta di Matteo B. Bianchi pubblicato da Mondadori in questa edizione cartonata del costo di 18,50 euro. Abbiamo, oltre la fascetta, la sovracoperta e poi il libro incartonato. Come sempre, prima di parlare di questo libro parliamo un attimo dell'autore, di chi sia quindi Matteo Bianchi. Matteo Bianchi è nato a Locate di Triulzi, Milano, il 18 aprile 1966 e dagli anni immediatamente successivi al diploma del liceo si è subito dedicato alla scrittura ma prima di arrivare alla scrittura dei romanzi è passato da altri tipi di scrittura. Ha infatti iniziato a collaborare con delle fanzine, arrivando poi a crearne una sua collaborando con l'autore Tito Faraci, chiamata Anestesia Totale. E quindi del 1993 la sua prima pubblicazione intitolata Non si può mica fare il bagno con queste trolle di onde che è un racconto autobiografico a cui segue poi nel 94 la cosa più bella di Firenze e il McDonald's che raccoglie quindi degli auforismi scelti da Bianchi e tradotti da lui su Andy Warhol. Cura poi l'edizione italiana di alcune antologie di narrative omosessuali americane pubblicando quindi nel 96 e nel 97 Uomini su Uomini e Non provate a definirci. Fonda poi quindi la sua fanzine ufficiale che si intitola clina la rivistina di Matteo Bianchi. E il suo primo vero romanzo è del 1999, si intitola Generation of Love. Si dedica poi alla produzione di quelle che sono programmi radiofonici e televisivi. Infatti poi dal 2009 fino al 2013 collabora per la produzione di e poi c'è Cattelan la trasmissione televisiva e anche X Factor. Scrive anche per il teatro un'opera intitolata Bigodini che viene interpretata da Platinet e da Benedetta Mazzini e nel 2004 pubblica poi Mi Ricordo nel quale fa un elenco di quelli che sono suoi ricordi di infanzia. Il suo terzo romanzo è del 2006, si intitola Esperimenti di felicità provvisoria e nel 2008 scrive per la trasmissione MTV Stasera niente MTV. Nel 2010 arriva il suo quarto romanzo intitolato Apocalisse a domicilio e il suo romanzo d'esordio viene poi rivisto e ripubblicato sotto un altro titolo Generation of Love Extensions. Nel 2017 pubblica il quinto libro Maria Accanto e nel 2018 invece la biografia Yoko Ono Dichiarazioni di amore per una donna circondata d'odio. Nel 2018 quindi inizia a dedicarsi anche alla produzione di podcast originali fino quindi alla pubblicazione di questo libro nel 2023 appunto La vita di chi resta che è presentato poi per il Premio Strega 2023. Possiamo quindi parlare di questo libro un libro che è molto difficile da leggere bisogna accostarsi a lui con una certa prudenza soprattutto è un libro a cui non ci si può avvicinare con molta leggerezza perché è un libro che richiede molta attenzione un'attenzione sia su quello che viene qui raccontato sia anche proprio sulla propria condizione e la propria vita personale. È un libro anche che ci fa alzare quasi nell'immediato le nostre difese è come se volesse il nostro io difendersi da quello che trova proprio a inizio di questa narrazione perché la storia si apre subito con una scena molto tragica che è proprio il ritrovamento da parte del protagonista che è anche l'autore di questo libro del corpo del suo ex compagno di vita appeso a una corda. È così quindi che si apre questa narrazione ed è così quindi che entriamo proprio a capofitto all'interno di questo viaggio nei ricordi che fa Bianchi un viaggio che però ovviamente non è fine a se stesso non ci sta semplicemente raccontando quello che è accaduto al suo compagno S in modo molto asettico senza emozioni senza coinvolgimento suo e coinvolgimento del lettore ma anzi è un viaggio che fa perché deve coprire una lacuna nella nostra società che è quella appunto caratterizzata dall'assenza di tematiche che riguardano quindi il suicidio perché il compagno, l'ex compagno S di Bianchi è morto suicida ed è quello che quindi apprendiamo proprio a inizio di questo libro ed è proprio per questo tipo di racconto che forse le nostre difese si alzano nell'immediato perché non vogliamo soffrire non ci vogliamo inserire in questa storia non vogliamo forse anche sperimentare la paura l'angoscia tutta quella serie di emozioni e sensazioni che fanno parte della vita di chi sostanzialmente rimane in vita dopo che la persona amata, il familiare decide per questo gesto così estremo e così violento nei propri riguardi superato però questo, possiamo dire, scoglio e facendoci anche coinvolgere e convincere dall'autore e quindi abbassando le nostre difese entriamo nel mondo dell'autore e lo facciamo proprio con tutta la naturalezza che l'autore stesso ci offre in questa narrazione perché non ci sono fronzoli in questo libro non ci sono arzigogolini non c'è uno studio linguistico all'interno di quello che racconta che serve ad abbindolare il lettore e a convincerlo a leggere no, non c'è niente di tutto questo perché Bianchi nella sua semplicità disarmante appunto ci disarma e ci convince per quello che racconta e non per come lo racconta a seguirlo in questo viaggio un viaggio che salta da una parte all'altra di questi venti anni che ci separano quindi dalla fine di esse alla pubblicazione di questo libro non è quindi un fatto recente ma anzi qualcosa che è maturato per lungo tempo nella coscienza dell'autore e forse anche nel cassetto segreto prima della pubblicazione alla pubblicazione di questo libro non è quindi un fatto recente ma anzi qualcosa che è maturato per lungo tempo nella coscienza dell'autore e forse anche nel cassetto segreto prima della pubblicazione stranamente forse proprio perché sto registrando più in ritardo rispetto al solito ho partecipato prima alla setta alla diretta della setta e quindi ho avuto anche modo di ascoltare quello che l'autore voleva dire sulle risposte, sulle domande che gli sono state poste e che anch'io gli ho potuto fare durante la diretta della setta e questo mi ha dato anche modo di capire ancora di più quelle tante sensazioni e anche il bisogno viscerale che ha avuto di raccontarsi un raccontarsi che non deve essere confuso proprio come la domanda che io ho fatto con un autore che semplicemente vuole piangere su se stesso o su quello che gli è successo ma anzi è forse anche quella la paura che volevo capire da lui se magari qualcuno lo avesse mai confuso e scambiato nei suoi intenti con un autore simile a quanto pare no però appunto non è un autore che bisogna scambiare e non è un libro che bisogna scambiare per un qualcosa fine a se stesso ossia un raccontare le proprie disgrazie anzi l'intento di Bianchi in questo racconto è quello di voler mostrare al mondo che esiste e soprattutto mostrare alla società italiana che esiste l'argomento del suicidio che esiste quindi la possibilità di un atto del genere di un'azione così violenta e cruenta per la propria vita e che quindi c'è la necessità di creare un qualcosa che non solo prevenga questi gesti estremi ma anche che dia la possibilità appunto a chi resta di trovare conforto, sostegno un luogo sicuro nel quale confrontarsi ma non con l'ultimo arrivato che ha problemi sul posto di lavoro come ci racconta stesso Bianchi ma anche e soprattutto con chi è appunto sopravvissuto a tutto questo e il tema del sopravvissuto torna molte volte perché ci racconta quello che praticamente è Matteo Bianchi è che definisce non solo lui ma anche tutti quelli che praticamente sono i sopravvissuti veri e propri di uno che si suicida proprio come i sopravvissuti di una strage proprio come i sopravvissuti di un attentato come chi praticamente ha visto la morte passargli accanto e non solo quindi accanto per se stesso ma anche accanto perché qualcuno vicino a lui si è tolto la vita e vivere dopo questo evento ha con sé tutta la tragicità quei moti interiori che appunto non possono rimanere indifferenti dopo quanto accaduto anche se non siamo noi a toglierci la vita a morire e a scomparire dalla storia da quel momento in avanti siamo comunque noi che sperimentiamo questo distacco così violento così doloroso questa assenza fisica delle persone che decidono di allontanarsi così tragicamente da noi e dalla vita e soprattutto tutta una serie di emozioni di sensazioni di domande che non avranno mai risposta di anche sensi di colpa che quindi sopravvivono o che proprio si risvegliano al momento della scoperta dell'addio così violento di qualcuno che ci sta accanto che sia un amico un parente un amato un familiare tutto questo quindi viene raccontato da Bianchi spostandosi quindi avanti e indietro in quella che è anche l'evoluzione stessa della relazione che lui ha avuto con questo suo compagno S e che quindi racconta proprio in maniera elementare semplice possiamo dire anche un po' di da scalica alle volte fotografando alcuni momenti alcuni riflessioni che fa stesso l'autore e questo ci rende quindi anche facile accesso non solo alla memoria dell'evento in sé qualunque esso sia in questa rievocazione ma anche proprio ci rende una porta aperta su quelle che sono le sensazioni dell'autore stesso e quindi anche ci permette di ricostruire tutto quello che è stato l'evoluzione di una relazione ma anche l'evoluzione del pensiero che poi ha portato a una certa azione devo dire la verità parlare di questo libro non è facile come vi ho detto c'è chi alza un muro per difendersi da quello che legge perché non vuole sentire parlare di argomenti del genere chi invece il muro se lo ritrova forse per un vissuto personale io ora rischio forse perché quando si parla della mia famiglia bisogna sempre fare le cose in gigantendole però io penso che è difficile però penso che sia anche giusto ricordare chi non c'è più e io mi sono avvicinato a questo libro effettivamente senza sapere come al solito cosa stavo andando a leggere e quando ho iniziato a capire che quindi il tema era il suicidio e quindi anche andare a capire i motivi che hanno spinto esse a un atto del genere e poi a esplorare quelle che sono le sensazioni i passi i turbamenti le difficoltà che hanno coinvolto Matteo Bianchi e che quindi lo hanno portato alla scrittura di questo libro mi sono trovato praticamente investito da questo evento che mi ha riportato a un evento di quasi sei anni fa nel quale io uscendo dal cinema sono stato raggiunto da una telefonata che mi diceva che mio cugino non c'era più che praticamente si era tolto la vita un cugino che purtroppo non vive qui a Napoli e quindi da un bel po' di tempo quindi la famiglia si era già spostata e quindi ovviamente spostandosi essendo io comunque più piccolo di questi miei cugini i legami non è che erano molto forti non ci si sentiva molto forse erano più i nostri genitori a contattarsi come era ovvio e come ovvio che accada e questa notizia mi ha lasciato stranito perché oltre al fatto che è uscito dal cinema e quindi ero ancora molto coinvolto dal film che avevo visto e dal fatto che ne avrei voluto parlare poi in una puntata qui sul canale ma vabbè quello sono io che faccio le cose ormai in visione di quello che dovrò fare per il canale ma sostanzialmente sono stato riportato violentamente alla realtà perché questo mio cugino non c'era più e dovevamo trovare il modo di dirlo a mio nonno che avendo già sei anni fa comunque una bella età si rischia sempre qualcosa e penso che sia anche giusto parlarne a dispetto di quello che potrebbe pensare la mia famiglia e che qui lo dico me ne frego altamente perché parlarne è anche un po' esorcizzare le paure sulla morte e sul suicidio e quello che fa Bianchi qui è importantissimo proprio in direzione di questo che vi sto dicendo di esorcizzare un qualcosa che noi vogliamo sempre tenere lontano che vogliamo sempre allontanare perché ci sembra uno spauracchio ed è quello anche che fa la società praticamente perché non avere dei luoghi di prevenzione non avere dei luoghi dove si può parlare dove ci si può confrontare dove i sopravvissuti possono anche sperimentare accoglienza e comprensione quindi compiere anche loro un cammino di guarigione dopo quanto vissuto è sintomo di quello che è un po' il pensiero della società società prettamente italiana che già vede di cattivo occhio gli psicologi che se non ti capiscono allora sono loro gli sbagliati che sono loro che ti vogliono riempire di pillole che sono loro che quindi ti fanno andare in pappa il cervello questa figura dello psicologo strizza cervelli che ti deve scombinare perché in realtà non sa fare altro e quindi non ti sa guarire io invece non la penso così penso che sia necessario parlare di tutto sia necessario mostrare anche questo argomento così difficile così brutale che spiazza e sicuramente annienta la vita di chi appunto resta di questi sopravvissuti io non mi definisco un sopravvissuto proprio perché vi ho detto è un lato della famiglia che purtroppo per lontananza fisica non abbiamo vissuto poi più di tanto anche forse per differenza di età cioè io mio cugino il fratello di quello che non c'è più lo vivo più ora che in precedenza proprio perché sono cresciuto o forse anche proprio perché il nostro vissuto ci porta poi ad allungare un po' le trame e le reti delle nostre conoscenze delle nostre interazioni e penso che sia anche giusto così speravo che magari questo potesse accadere con ancora mio cugino in vita però già il fatto di riuscire a vivere grazie a questo libro tutta una serie di pensieri di fili che si susseguono di pensieri e anche di ragionamenti perché io purtroppo non riesco a parlarne di mio cugino a mio cugino non riesco a domandare non riesco a sapere non perché lui sia chiuso ma perché sono io che non voglio risvegliare nulla in lui come non chiedo nulla alla mamma a mia zia come non chiedo nulla a mio nonno a riguardo perché so che posso sembrare indedicato so che posso andare a toccare delle corde della carne che ancora non si è cicatrizzata e che è giusto che sia così Bianchi ci ha messo vent'anni per arrivare a questo libro c'è gente che dopo vent'anni forse inizia a essere consapevole di quello che è stata la propria tragedia personale e che forse dopo 30-40 inizierà a mettere mano a questa tragedia a questa ferita per integrarla in sé cosa che appunto Bianchi arriva a fare verso la fine di questo libro o meglio ci racconta verso la fine di questo libro consapevole e cosciente che si arriva a un punto della vita nella quale bisogna per forza di cose mettere ordine mettere punti fermi a capitoli che necessitano di una fine e di un voltare pagina e questo voltare pagina non significa che voltata tutto il precedente scompare quello farà parte sempre del libro della nostra vita delle nostre esperienze del nostro vissuto e non possiamo come ci dice stesso Bianchi arrivare al punto da sentirci in colpa se ci dimentichiamo il compleanno di chi non c'è più o se ci dimentichiamo l'anniversario della sua scomparsa della sua morte tutto questo però Bianchi lo fa dopo un percorso personale fatto forse anche per propria volontà fatto anche da solo perché non ha trovato gli strumenti i luoghi le persone le strutture efficaci affinché questo lo avesse potuto fare prima e meglio forse con un frutto migliore io quindi tutte queste domande non le faccio a questo lato della mia famiglia non le faccio a mia zia a mio cugino a mio nonno perché non voglio risvegliare nulla non voglio andare come si dice qui a Napoli a sfottere la mazzarella però rimangono tante domande in sospeso e soprattutto rimane anche un po' il dubbio che è il dubbio che viene raccontato anche da Bianchi e se invece qualcuno fosse riuscito a capirlo mio cugino se qualcuno al di là ovviamente della sfera familiare se qualcuno fosse riuscito ad accoglierlo a comprendere quelle poche cose che si sono dette in famiglia o hanno raccontato come una persona fragile a me questo termine non piace perché lo si considera sempre in accezione negativa come un qualcosa che bisogna stare attenti a non toccare a non muovere perché basta la minima bava di vento che si distrugge io invece considero mio cugino una persona molto sensibile l'ho sempre visto un po' lontano dalla realtà ero bambino quindi avevo poca non sapevolezza poca conoscenza ma l'ho sempre visto lontano dalla realtà perché ha sempre avuto un occhio più approfondito nella realtà dicono che abbia scritto tante poesie e che quindi in quelle poesie così strane così particolari abbia forse lasciato qualche indizio anche dei motivi per questo suo gesto io invece penso che quelle poesie siano state la valvola di sfogo e soprattutto anche quel modo di esprimersi che però non è stato compreso al di fuori della bulla della sua famiglia e che quindi non si è sentito accolto ovviamente non sto parlando del fratello e dei genitori io sto parlando di chi è al di fuori della casa della famiglia sono tanti dubbi tante cose che rimangono appunto inespressi io è la prima volta che ne parlo a fine settembre se non sbaglio sono sei anni che lui non c'è più ed è la prima volta che mi faccio queste domande proprio per questo libro che ho letto e so che non troveranno mai risposta perché non ho il coraggio di farle alla famiglia ma non perché ho paura della reazione forse temo più la reazione nel caso in cui qualcuno veda questo video molto raro che accada per fortuna però ci resto e per questo in parte ma è molto in minima parte mi considero un sopravvissuto perché dal momento che ho saputo che non c'era più sensi di colpa e se avessi potuto e se fossi riuscito a forse non ho neanche avuto l'occasione oppure anche proprio la possibilità di entrare in relazione matura vera con mio cugino appunto per la lontananza per la differenza d'età dall'altro lato però mi rimane sempre questa vocina che dice che se fossimo stati rapporto un rapporto diverso e magari alcune cose le avrebbe fatte leggere a me sarei riuscito forse a intercettare qualcosa però è anche vero che con i sei con i ma non si fa niente e che quindi sto esprimendo semplicemente il dispiacere di quello che è successo però diciamo che Bianchi ha aperto tante voraggini che sono forse anche un po' l'introspezione che sono riuscito a fare della vita che qui viene raccontata in relazione a una mia esperienza personale sarà che quindi avendo io l'esempio di mio nonno che è sempre stato così tanto attento a tutti i lati della famiglia e avendola tenuta assieme per tanto tempo mi sento un po' chiamato anche a questo ed è anche vero che quando comunque un parente viene a mancare il dispiacere resta tanto poi se viene a mancare anche per fatti così fuori dal mondo così violenti allora in espressione il non riuscire a costruirsi una risposta è ancora più potente e Bianchi qui ci dà proprio l'esperienza che ha vissuto in questa direzione perché pur di sapere che esse è finalmente nella pace e quindi rispondere alla sua pace con la sua pace interiore alla pace di esse con la sua tranquillità la tranquillità di Bianchi allora vanno bene qualunque tipo di risposta data da qualunque tipo di persona allora medium streghe persone che leggono le carte chiunque pur di sapere che esse stia bene e che quindi io abbia l'ok per andare avanti io in questo mi sento forse un po' più fortunato di tanti altri perché ho forse la preghiera e la fede dalla mia parte e quindi io so che tramite la preghiera mio cugino mi è vicino posso pregare per lui so che lui prega per noi dall'altro lato però ovviamente restano comunque inespresse tante domande a cui non arriveranno mai risposte e il dispiacere è tanto e soprattutto in relazione a quello che esse racconta del suo percorso della sua sofferenza anche della incapacità di riuscire a vivere a relazionarsi nuovamente incastrato e bloccato in questa concezione di sé da sopravvissuto che però non riesce ad andare oltre fino appunto a un certo punto della narrazione che penso poi a quello che hanno vissuto in famiglia in casa e quindi anche a tutte le sensazioni e a questo sentirsi bloccati incastrati io non riesco a immaginarlo perché è come se si chiudesse tutto addosso come un baratro che ti inghiottisce sembra non esserci un domani sembra non esserci un futuro ed è tutto questo una consapevolezza che deriva proprio da questa lettura perché sono tanti gli elementi gli spunti che mi hanno portato a riflettere a riguardo e a mettere anche questa esperienza della fine di mio cugino sotto una luce diversa quindi con delle domande diverse delle domande nuove l'augurio quindi è quello che anche noi anche chi è realmente io non posso considerarmi tale non sono così tanto prima donna che tutti i sopravvissuti a persone che hanno deciso di farla finita con la propria vita riescano a fare quel passo oltre che è riuscito a fare Bianchi stesso è di dirsi integrato o meglio di integrare in sé questa sofferenza di integrare in sé tutti gli aspetti di una relazione che viene stroncata così all'improvviso violentemente senza neanche possibilità di appello e quindi fare pace con se stessi fare pace con chi non c'è più e perdonarsi anche che penso sia anche la cosa più importante perdonarsi e perdonare e solo così quindi avere la consapevolezza e la possibilità di poter andare avanti che non significa dimenticare mettere da parte cancellare quanto è stato prima ma appunto sapere che fa parte di noi fa parte di sé e andare nel mondo con questa consapevolezza qua non ci lascerà mai questa sensazione sono passati sei anni per me e non ne ho mai parlato è la prima volta e se per bianchi invece ce ne sono voluti 20 è proprio perché si esce nel mondo con questo tassello che non volevamo che ci è capitato e con cui però abbiamo necessità di fare pace di farlo entrare veramente nella nostra essenza nella nostra esistenza consapevoli che è una cosa che ci cambia che ci ha cambiato che cambierà e ci cambierà ma che non ci deve definire fa parte di noi tutto qua perché come bianchi stesso ha scoperto il potere di perdonarci di guarirci di salvarci anche di darci la possibilità di andare avanti ce lo possiamo dare solo noi in questo frangente in queste occasioni e arrivare a dire basta diventa quasi un dono che si fa a noi stessi e bianchi se l'è fatto e ce l'ha raccontato all'interno di queste ultime pagine proprio perché è arrivato anche lui alla consapevolezza che bisogna andare avanti e quel basta in una notte sola gli ha cambiato e trasformato la vita neanche fosse un bruco in un bozzolo pronto nell'immediato a diventare una farfalla io so di non essere uno psicologo di non essere nessuno per dire chissà che cosa a riguardo ho provato a portare un po' il mio pensiero un po' la mia esperienza e soprattutto quello che mi ha suscitato questa lettura per cui non ho la presunzione nell'arroganza di dire così si fa così non si fa ma semplicemente vi ho raccontato e vi ho portato un po' una testimonianza a riguardo un qualcosa che mi ha suscitato quindi questa lettura una serie di riflessioni in risonanza con le riflessioni dell'autore se voi magari avete vissuto una cosa simile o conoscete qualcuno che ha vissuto qualcosa di simile potete raccontarmi la vostra potete condividere qui sotto magari qui sotto a questo video nella sezione commenti si può creare quel luogo o iniziare quel luogo di condivisione di confronto magari se qualcuno ha trovato una realtà diversa da quella che conosco io o da quella che ha conosciuto Bianchi e quindi di luoghi di aiuto di ascolto di accoglienza fa benissimo a dirlo così da diventare qui occasione per aiutarsi cosa che Bianchi non ha avuto nella sua esperienza se non appunto nella parte finale ed è stata comunque un'esperienza di aiuto limitata ad alcune persone limitata nel tempo cambiamola questa situazione questa concezione e trasformiamola in un qualcosa di più fertile che possa aiutare il prossimo quindi vi aspetto nei commenti qui sotto fatemi sapere voi cosa ne pensate a riguardo e se avete la vostra esperienza da raccontare fatelo non sono curioso maniacalmente schifosamente curioso ma forse ci fa bene ascoltarci leggerci e condividere questi aspetti della nostra vita io mi fermo qua perché ci sarebbe veramente tanto da dire e non voglio allungarmi troppo vi aspetto nei commenti qui sotto fatemi sapere la vostra e se questa puntata poi vi è piaciuta mettete un bel mi piace condividetela con i vostri amici e iscrivetevi al canale attivando la campanella al lato per ricevere le notifiche di pubblicazione se il libro non lo avete ancora letto volete recuperarlo come al solito qui sotto nell'info box trovate il link affiliato a amazon fate visita anche a www.retrattinocenso.it iscrivetevi nei gruppi facebook e telegram il salotto dei recenziani io sono Dario questa è Recenso e noi ci vediamo venerdì prossimo con una prossima puntata sempre qui sempre su Recenso pronti a sfogliare nuove storie e volare insieme nel mondo della fantasia Grazie a tutti i nostri spettatori